Giovanni Allevi con l'orchestra sinfonica italiana al Val di Chiana Outlet Village torna infatti a Fogliano della Chiana la Village Night, la serata più glamour degli eventi estivi l'appuntamento con il grande pianista in concerto gratuito è per sabato 7 settembre un evento musicale che abbina le eccellenze enogastronomiche alla grande musica grazie alla presenza del maestro Giovanni Allevi dalle ore 19 sarà possibile degustare nelle vie del Village le migliori rappresentazioni dei vini non solo della Toscana ma anche della Land of Fashion quindi di tutte le regioni che ospitano gli outlet del gruppo Multi le birre artigianali che sono una novità che è stata introdotta già dallo scorso anno e che consente appunto di assaggiare anche questo tipo di prodotti insieme appunto a un trattamento musicale di grande qualità si conclude quindi con questo evento tutto il palinsesto dei grandi eventi estivi del Val di Chiana Outlet Village